grandissima scoperta di feder consumatori che dice cito testualmente il mercato libero è un col sale blef compresso che tutte le offerte superiori ai costi del mercato tutelato non ce lo saremmo mai aspettato grazie a feder consumatori che ha scoperto per l'ennesima volta l'acqua calda ma questa notizia ci dà comunque modo di ricordare due punti secondo noi importanti che vanno appunto sottolineati la fine del mercato tutelato ce l'ha chiesta all'unione europea come quando lo vedremo tra poco ma ce l'ha chiesto a noi cioè non lo ha chiesto a tutti i paesi membri infatti in altri paesi francia e germania tanto per non fare nomi il mercato tutelare tutelato esiste ed è ben lungi dall'estere dismesso anzi aiuta la maggior parte di cittadini e imprese a rimanere a proteggersi diciamo dal libero mercato che è quello dove viene regolamentato il mercato dei prezzi appunto quindi gas e elettricità per i cittadini francesi e tedeschi sono tutelati mentre all'italia è stato chiesto di eliminare il mercato tutelato abbiamo detto ce l'ha chiesto l'unione europea era per la precisione uno degli obiettivi legati alla concessione delle rate del pnrr era uno degli ultimi obiettivi lo sottolineo perché uno degli obiettivi centrato dal governo meloni sul finire del 2023 uno dei famosi 28 obiettivi centrati dal governo meloni e di cui la meloni si è anche vantata peccato che uno di questi obiettivi era appunto la fine del mercato tutelato ovviamente un processo iniziato prima del governo meloni da altri governi ma che il governo meloni ha portato a compimento senza fiatare e quindi insomma per ottenere le rate del pnrr che più volte abbiamo detto e spiegato perché è un mess che ce l'ha fatta come quando andate in banca per chiedere un mutuo per una casa che la banca vi concede dicendovi però che sceglierà lei la casa che dovrete comprare come arredarla chi la potrà frequentare e le regole di comportamento interne non proprio un grande affare veniamo poi un altro discorso abbastanza importante le privatizzazioni lo ha ribadito al world economic forum di davos il ministro giorgetti ma è un tema che di cui si discute già da settimane anzi da mesi perché già nell'anadef nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza il governo meloni si è impegnato a fare almeno 20 miliardi di euro di privatizzazioni nei prossimi tre anni c'è circa 6,6 miliardi di euro l'anno una cifra attenzione perfettamente in linea con la maggior parte degli anni del periodo delle grandi privatizzazioni c'è quello della svendita del liri dove tra il 1993 e il 2005 vennero totalizzate circa 120 miliardi di euro di privatizzazioni che in media fa poco più di 9 miliardi di euro l'anno ma concentrati in 3 4 anni che hanno superato addirittura i 15 20 miliardi di euro il resto degli anni le privatizzazioni erano perfettamente in linea con quelle in programma dal governo meloni anzi addirittura di meno escludendo quegli anni in cui si sono superati i 15 20 miliardi un grandissimo risultato andiamo a vedere nel dettaglio come il governo sovranista di centrodestra intende proseguire nell'opera di svendita dei beni pubblici sulla falsariga di quello che ha già fatto perfettamente il centrosinistra per non parlare dei governi tecnici si parla della cessione del 4% delle quote di Eni per un totale di circa 2 miliardi si parla della cessione del 10 20 30% delle poste per una cifra che che insomma ha una forbice in base alle quote che stanno eh cedute tra i 2 miliardi di euro e 6 miliardi di euro ci sarà poi mps l'unica banca italiana mentre altri paesi hanno in tema sistema bancario quasi interamente pubblico tipo la germania sempre per non fare nomi sempre in attesa che l'unione europea dia il via libera alla svendita della nostra ex compagnia di bandiera all'italia ovviamente sempre alla germania nel frattempo i tedeschi fanno affari di quelli che si fanno durante il periodo di saldi perché stanno per acquistare il quindicesimo aeroporto scalo greco 14 già li hanno acquistati a prezzo di saldo ovviamente adesso dovrebbe toccare all'aeroporto di Atene quindi guarda caso la germania sta comprando a prezzi di saldo tutti gli scali greci e l'ex compagnia di bandiera italiana ma ovviamente è solo una fortuita coincidenza veniamo poi un'altra notizia importante di questi giorni perché col supereroe mascherato che sta secando gli autovelox in giro per l'italia soprattutto in nord italia si è venuto molto a parlare di questo fenomeno e noi lo affrontiamo come al solito dal punto di vista dei dati che cosa ci dicono i dati bene i dati ci dicono che l'italia nonostante non abbia una delle migliori rete autostradali d'europa e neanche una delle più sviluppate in termini di chilometraggio assoluto chilometraggio per abitante è uno dei paesi anzi è il paese col più alto numero di autovelox installati più di 11.000 molti di più di paesi assimilabili per dimensioni abitanti e superficie super giù all'italia come la gran bretagna che ne ha pochi più di 7.000 la germania con 4.700 e la francia con 3.780 infatti anche andando a vedere il numero di autovelox ogni 100.000 abitante l'italia si classifica ai primissimi posti ma non è solo una questione di numero di autovelox o di rapporto rispetto all'estensione della rete autostradale o al numero di abitanti perché c'è il problema di quanto quanti soldi fanno incassare allo stato questi autovelox ebbene in italia molti comuni sostanzialmente si finanziano con gli autovelox noi abbiamo spiegato spesso che il patto di stabilità e crescita ovviamente impatta sulla finanze centrali nazionali ma impatta tantissimo soprattutto sulle finanze locali fatto sta che la maggior parte dei sindaci sono diventati dei curatori fallimentari che si finanziano soprattutto con le tasse e soprattutto con le multe e infatti secondo i dati ufficiali del ministero dell'interno nel 2022 le principali 20 città italiane hanno incassato un totale di 75 milioni di 75 milioni 891 mila 968 euro grazie alle sanzioni elevate solo tramite autovelox un grandissimo incremento rispetto all'anno prima che però vale la pena ricordare 2021 è un anno che faceva poco testo perché ci avevano chiuso dentro casa avevano chiuso molte fabbriche molte imprese quindi è ovvio che rispetto al 2021 i numeri siano più alti ma quello che è importante notare rispetto agli altri paesi non è solo il numero di autovelox che ci vide il primo posto se noi andiamo a vedere l'entità delle sanzioni pecuniarie minima e massima per lo sforamento dei limiti di velocità che è quello che leva l'autovelox l'italia si classifica ai primissimi posti anche in quello abbiamo tra le multe minime per eccesso di velocità più alte di tutta europa sulle massime non ci batte nessuno l'unica eccezione riguarda quei paesi che elevano le multe anche in base al reddito di chi ha commesso l'infrazione il che vuol dire che se tu fermi un milionario ovviamente la sua multa sarà fuori scala tra l'altro questa cosa sarebbe un bene perché renderebbe una sanzione regressiva come le multe che colpiscono tutti i cittadini a prescindere dal loro livello di reddito e di ricchezza un po' come falliva in italia invece abbiamo tra le multe più alte anzi le più alte se vai a vedere il massimo che non è rapportato al reddito d'europa e quindi il dubbio che avere le multe più alte di tutti e il maggior numero di autovelox sia fatto non tanto per tutelare la vita dei cittadini cosa doverosa e legittima ma quanto per spremerli per muggerli per estrarre risorse reddito ricchezza dei cittadini e effettivamente molti di noi hanno esperienza di autovelox messi subito a ridosso quando c'è un forte calo del limite di velocità dove si passa magari da 130 a 90 o come si entra in città che si passa magari da 90 addirittura 130 a 50 casualmente gli autovelox sono messi laddove possono far più male economicamente cioè prendere il maggior numero di cittadini e non tanto dove possono salvare le vite quindi questi sono dei dati che vi raccontiamo perché aiutano a capire un po' anche il fenomeno dell'esasperazione che provano i cittadini nei confronti di uno stato che anziché seguire i principi sanciti dalla costituzione diciamo diventato uno stato vessatorio e iniquo andiamo poi per chiudere a dare un po' di dati per quanto riguarda l'andamento dell'economia italiana perché sono usciti due report sia quello di conf commercio quello della congiuntura sia quello di banca italia ebbene con commercio ci dice che secondo le sue stime nel 2023 la crescita del pil è stata inferiore all'uno per cento dello 0,8 per cento per la precisione mentre a gennaio la variazione rispetto a dicembre è stata addirittura negativa la variazione del pil con un meno 0,1 per cento per quanto riguarda i consumi che abbiamo spiegato spesso che si tratta di una delle componenti positive e più importante del pil spesa pubblica consumi delle famiglie investimenti delle imprese e saldo export import ebbene i consumi nel 2023 sono risultati ancora una volta inferiori al 2019 per la precisione inferiori del 3 per cento ma le stime di banca italia sono addirittura peggiori di quelli con commercio perché confermano una crescita del pil nel 2023 inferiore all'uno per cento ma dello 0,7 per cento a differenza di conf commercio che parlava dello 0,8 per cento mentre per il 2024 le stime di banca italia parlano di una crescita teorica dello 0,6 per cento e sappiamo quante queste stime vengano purtroppo spesso riviste al ribasso in corso d'opera tra l'altro ci dice banca italia che è una crescita che sarà attrenata soprattutto la domanda estera cioè questa è una fotografia perfetta dell'ordo liberismo unionista basato sul modello tedesco economia fortemente improntata all'export a scapito ovviamente della domanda interna quindi dei salari e crescita risibile eh con uno stato molto presente ma in senso contrario rispetto rispetto a quanto previsto dalla costituzione ne abbiamo accennato un po' la scorsa settimana e anche in altre eh situazioni chiudiamo però con una nota positiva perché è uscito il nuovo rapporto di ehm eh l'undicesimo rapporto per la precisione sul bilancio del sistema previdenziale italiano fatto da itinerari previdenziali che cosa ci dice che il sistema pensionistico italiano non è sostenibile è strasostenibile al contrario di quanto ci raccontano anche oggi l'Ocse è tornata a ripetere che dobbiamo tagliare le pensioni aumentare l'età pensionabile se no il sistema non è sostenibile non è vero perché anche l'Ocse come Eurostat si basa sui dati Istat che però sono sbagliati con dolo non lo sappiamo i dati però ci raccontano un'altra cosa e cioè che nel duemila e ventidue rispetto al eh al duemila e ventuno il peso della spesa pensionistica rispetto al PIL al netto dell'assistenza è sceso passando dal dodici virgola undici per cento all'undici virgola settantadue per cento non solo al netto dell'IRPEF cioè della tassazione che in Italia è molto alta è come quella dei salari mentre alcuni paesi hanno una tassazione agevolata per delle per le pensioni o addirittura non sono tassate le pensioni diciamo la spesa per il sistema pensionistico al netto dell'assistenza e della tassazione che sono soldi che poi ritornano allo Stato è addirittura eh dell'otto virgola eh sessantaquattro per cento del PIL era dell'otto virgola ottanta tre nel duemila e ventuno il che vuol dire che il saldo entrato e uscita del sistema pensionistico al netto ripeto dell'assistenza e dell'IRPEF che andrebbero scorporate per ovvi motivi anche di coerenza rispetto agli altri paesi è positivo per quasi cinquanta miliardi di euro quarantotto virgola seicento ventidue miliardi per la precisione e il saldo positivo che l'anno precedente era di neanche quaranta miliardi trentanove virgola novantanove inoltre migliora il rapporto tra lavoratori e pensionati che è di uno virgola quattrocento quarantaquattro molto vicino a quell'uno virgola cinque che viene indicato come il livello ideale minimo per la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico mi permetto io di aggiungere che se noi facessimo lavorare i milioni di italiani tra disoccupati due milioni inattivi più di dieci milioni ed espatriati due milioni soli giovani laureati costretti ad espatriare e migliorassimo il lavoro cioè da precario lo facessimo diventare stabile sono tre milioni i precari altrettanti circa i lavoratori poveri e quelli costretti al al part time involontario ebbene il sistema pensionistico italiano sarebbe strasostenibile ovviamente c'è un problema di natalità ma il problema della natalità riguarda la nostra sopravvivenza come popolo e non certo la sostenibilità del sistema pensionistico